Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1 e ricordiamo la chiusura per lavori fino al 28 febbraio del tratto compreso tra Aglio e Roncobilaccio in direzione nord. In FIPILI restano rallentamenti tra Empoli ed Empoli Est per chi viaggia verso Firenze e regolare il traffico altrove. Uno sguardo al traffico ferroviario a causa di un incendio nei pressi della sede ferroviaria, la circolazione è interrotta tra le stazioni di San Benedetto e Vernio. I treni regionali in linea potranno subire ritardi e variazioni. Al momento due treni regionali sono fermi rispettivamente a San Benedetto e a Vernio. E prima di salutarci per il trasporto pubblico locali, per motivi legati al Covid, quest'oggi saranno assenti 409 conducenti sul territorio regionale. Sono previsti tagli al servizio. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con il regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.